benvenuto nella rubrica per l'act per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la mindfulness e l'act ti è mai capitato di trovarti davanti a una salita magari in montagna oppure anche in una città che non sia di pianura una salita di quelle che dici non mi va non ho voglia è troppo difficile sono stanco ma se lo facessi un'altra volta ma se lasciassi stare e poi invece magari c'è quella volta che sei riuscito hai fatto hai percorso la salita sei arrivato in alto e c'è stato quel momento in cui hai visto una prospettiva veramente diversa da quello che potevi vedere dal basso quindi c'è stata magari una forte meraviglia e anche soddisfazione per il percorso fatto e è come quando non ti va di fare qualcosa perché ti sembra difficile o impegnativo lo rimandi o quando riesci a farlo scopri che ti piace che era qualcosa che ti sembrava che sarebbe stato difficile noioso insomma indesiderato e invece passo dopo passo ti piace e ancora di più quando arrivi magari appunto su in alto alla fine quando hai completato quel tipo di attività ti senti anche soddisfatto per esempio quando a volte ti può capitare al mattino di non avere voglia di andare al lavoro perché appunto che scatole che scocciatura e poi magari quando sei lì stai facendo un'attività che non è poi così male e dopo averla fatta sei soddisfatto stessa cosa per la palestra quando palestra qualsiasi altra attività fisica la corsa oppure anche mi vengono in mente i bambini all'asilo che al mattino dicono no non ho voglia non di andare o a scuola e poi quando invece sono lì si divertono e sono contenti di esserci andati ecco quando inizi a fare il primo passo la prospettiva già cambia e poi un altro passo e cambia ancora e quando arrivi su in alto c'è una meraviglia che magari dal basso neanche ti saresti aspettato che all'inizio che prima di iniziare il percorso neanche avresti immaginato quindi la per l'act di oggi è questa quindi quando ti senti bloccato perché ti sembra di avere di fronte una salita considera che già con il primo passo la prospettiva cambia e quando sarai arrivato quando comunque avrai percorso il tuo viaggio e la prospettiva sarà ancora diversa potrebbe essere proprio diverso da quello che ti aspettavi non necessariamente sempre bello sempre positivo ma sicuramente diverso puoi anche chiederti per esempio cosa penseresti della stessa situazione di difficoltà fra due ore fra una settimana fra un mese fra uno cinque o dieci anni la prospettiva sicuramente sarebbe diversa e potrebbe darti una mano per capire come affrontare la difficoltà che stai attraversando o sbloccarti quindi ti invito oggi e questa settimana a provare a cambiare prospettiva davanti a quelle che ti sembrano difficoltà e quindi iniziando anche a fare il primo passo la prospettiva poi cambia e quindi cambia anche quello che tu pensi e valuti della situazione di te stesso in quella situazione e perché no magari vengono altri passi da sé